All'ingresso di Tortorisci il display del comune aggiorna i dati in tempo reale 78 positivi, 135 persone in isolamento, una vittima. Sono stati i funzionari prefettizi della commissione straordinaria che da fine dicembre regge il comune sciolto per mafia a sollecitare alla regione sulla base del crescente numero dei contagi l'istituzione della zona rossa nel centro nebroideo di 6.000 abitanti. L'aspetto che preoccupa maggiormente è una possibile falla nel sistema per quanto riguarda il tracciamento dei contatti perché tra la prima diagnosi certa sul contagiato e il provvedimento di isolamento che è sicuramente tempestivo poi c'è un sommerso dei suoi contatti che non sempre rapidamente vengono tracciati. Nemmeno due settimane di zona rossa regionale hanno determinato un calo dei contagi nel paese Euricenze ora costretto ad altri dieci giorni di lockdown. Quelli che creano questi assembramenti vuol dire che sono incoscienti. I tortoriciani invocano una maggiore attenzione da parte delle autorità sanitarie per l'assistenza domiciliare. Un'esigenza è di avere un'autombulanza medicalizzata, covid, per poter supportare più di 80 ammalati domiciliati. Con il divieto di circolazione se non per comprovate esigenze lavorative di salute o necessità la zona rossa a Tortorici sarà in vigore da domani fino alla mezzanotte del 15 febbraio. Se il popolo è scorretto che non segue il protocollo si deve fare purtroppo per forza così altrimenti non si sconfinge questo virus.